Come dire, definire bene l'approccio in fase iniziale, sia nell'analisi di quello che è il contesto nel quale ti trovi ad operare, soprattutto nell'analisi anche di quelli che sono gli stakeholder e quali sono gli interessi desiderati. È l'allenamento iniziale per poi definire una strategia, per poi andare a capire se la squadra che hai è quella che serve per raggiungere gli obiettivi strategici e serve anche per capire quali aggiustamenti sulle persone che ci sono vanno fatti o quale competenze devono essere portate a bordo. Per far questo, evidentemente, l'osservazione è fondamentale, soprattutto in fase iniziale, cercare di capire da tutta la quantità di informazioni che esistono, che si rascolgono, quali sono quelle sulle quali si può poggiare poi la base per la costruzione della futura squadra. È la parte anche un po' interessante del lavoro, se devo essere sincero, perché è fatto di continua osservazione, di continui dati e di un costante aggiustamento poi nell'indirizzo delle persone. Spronare, evidentemente, a volte serve, a volte però serve anche essere, come dire, comprendere quello che può essere la situazione del collaboratore, della squadra, lo stato di salute dell'azienda, quindi è un insieme piuttosto complesso di cose che però rende il mio mestiere o il mestiere di chi si trova in una posizione manageriale anche molto interessante. Grazie